Ciao, oggi la mia opinione su un imbrato che ho usato molto. Un piccolo stacco musicale si inizia subito. Ecco qui il mio imbrago della Edelrid, a cui tengo perché era l'imbrago che avevo per capanna margherita, quindi usato per progressione in conserva. Legarsi in cordata è veramente una cosa unica. E si basa sulla fiducia data ai compagni, compagni che si possono legare in una lunga amicizia. Valore espresso in questo libro di Simone Morio con Mario Cornis, intitolato per appunto Incordata, in cui si trovano i valori autentici che si dovrebbero trovare in montagna. Bene, chiudiamo la parentesi. Vi faccio vedere questo imbrato che, pur essendo usato di me molte volte, sembra praticamente nuovo. Ho ovviamente anche il kit da ferata, solo che questo l'ho comprato su Decraton in sconto, e qui è solo comprare su Private Sport, sempre in sconto. Andiamo a vedere i dettagli. Ciao! 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 No! Grazie a tutti. La particolarità di questo imbrago è praticamente una fascia larga, una imbottitura molto leggera fra l'altro, che lo rende molto comodo da utilizzare. Cosa molto importante perché se lo utilizzi per proiezione in conserva lo indosserai per tutto l'arco dell'itinerario rispetto alle ferate il cui imbrago viene utilizzato per brevi tratti. Nelle seguenti immagini l'imbrago è sempre utilizzato per salire a capanna margherita. Mentre per quanto riguarda il kit da fiorata che chiaramente in conserva non serve, ti vorrei fare notare la sicurezza di questi moschettoni che non si aprono. Per aprirli bisogna premere qui, ecco qua. E tornano molto bene perché basta una piccola pressione con la mano, veramente leggera. E allo stesso tempo non si possono aprire quando non si devono aprire. Altra caratteristica è il peso, sono veramente leggeri. Ah, dimenticavo, l'imbraiatura ha il cosciale regolabile. Infine è il portamateriale. Non avendo legami commerciali con la Edelrid, questo kit entra a far parte delle mie genui review. Aspetta i tuoi commenti e le tue opinioni qui sotto questo video. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale, di cliccare sulla campanellina per ricevere la notifica dei prossimi video. Ci vediamo presto, ciao! Ciao! Grazie a tutti.